C'è una pubblicità quasi positiva nei confronti di Cicca. Cicca è l'unico Cicca al mondo amico e alleato dei sindaci, degli assessori all'ambiente e dell'assessore al bilancio. È l'unico Cicca al mondo che possono masticare le donne incinte in fase di allattamento perché non continua spartame. È l'unico Cicca al mondo che ha un cuore, questo ci tengo a sottolinearlo, è l'unico Cicca al mondo naturale, vegetale, ecosolitale, biodegradabile al 100%, certificato bio e certificato con il cuore stesso. Chi ha segnalato la sua storia al tempo? Guardi, mi sono permesso di inviarla io questa segnalazione perché ho voluto mettere un po' alla prova il mio territorio romano a vedere se apprezzasse quello che sta facendo un romano nei confronti di tutta Italia. Grazie a tutti.